Comincia una legislatura fondamentale per il futuro della Basilicata, ne siete consapevoli? Assolutamente sì e sentiamo ancora di più l'importanza di questa elezione e di questo nuovo mandato che siamo per affrontare. Ecco il suo sentimento oggi per il ritorno nel parlamentino lucano. È una fortissima emozione poter rappresentare tutti i cittadini lucani e questo mi riempie di gioia. È un orgoglio e grazie a tutte le persone che hanno avuto fiducia in me per un mandato che ho fatto precedentemente e quindi che ha ripagato tutti quei sacrifici che abbiamo fatto. Adesso i lucani si aspettano la squadra di governo, quali sono i tempi? I tempi saranno a breve, giustamente voi conoscete le difficoltà che ci sono sullo comune di Potenza e quindi prossimamente avremo sicuramente il nuovo governo regionale pronto a lavorare. Iscriviti al nostro canale!